Buonasera a tutti e tutte, se prendiamo posto cominciamo questo dibattito, intanto ringraziamo Michael Hart e Anna Curcio che sta arrivando di essere qui con noi, un grazie anche a tutti voi di partecipare a questo dibattito, a me l'onere dell'introduzione, vorrei tanto anche partire dal testo che trovate lì in vendita, all'interno del quale c'è anche un contributo di Michael Hart dal titolo Il comune nel comunismo, devo dire un testo veramente molto produttivo da un punto di vista di pratiche teoriche, c'è un confronto tra due scuole di pensiero politico che sono tra le due scuole tra le più feconde all'interno della variegata realtà del marxismo e precisamente un confronto tra la scuola post-operaista, quella che si richiama all'operaismo italiano e invece una scuola più altusseriana che si richiama a un marxismo francese, si prova in questo testo a far dialogare queste due scuole, che chiamare scuole è anche un termine neanche troppo preciso, esatto perché si tratta più che altro di costellazioni teoriche che sono sempre state anche molto attente, soprattutto l'operaismo italiano al dialogo tra pratiche teoriche e pratiche politiche o comunque ai momenti di mobilitazione, lotta, conflitto come dei momenti a cui guardare in maniera molto proficua per la creazione di nuovo sapere. Ma io mi limito a porre anche delle questioni che questo testo ci apre. Il saggio di Michael parte con un parallelo con i manoscritti economico-filosofici del 44, precisamente quella parte dei manoscritti in cui Marx parla del passaggio dalla tendenziale egemonia delle merci immobiliari, quindi grossi datifondi piuttosto che tutta una serie di merci immobiliari a quella che è la tendenziale passaggio all'egemonia delle merci mobili, che sono le nuove merci, le industrie, il capitalismo nascente che da metà del Settecento impone i suoi ritmi produttivi a tutto il resto della società. Attraverso questo parallelo Michael Hart secondo me ci fa capire molto bene quella che oggi è una condizione che dobbiamo affrontare in maniera anche molto seria. La questione del tendenziale passaggio di egemonia dalla proprietà materiale, che è stata la produzione di merci materiali, è stata caratterizzante anche del periodo del fordismo e del terrorismo, ha una tendenziale egemonia della produzione immateriale, quindi non più oggetti ma affetti, idee, conoscenze, relazioni. Questa lettura viene fatta andando anche a sviluppare quella che è un'ipotesi di capitalismo cognitivo o comunque di biocapitalismo che prova ad andare a leggere quelle che sono le tendenze attuali, contemporanee all'interno del sistema di oggi e trova delle contraddizioni molto profonde che oggi si vive questo sistema economico. Da un lato ci sono i flussi materiali che sempre più tendono ad uscire dalla forma proprietà, il grosso cambiamento tra merce e materiale, merce e materiale è appunto che se io ho una giacca non la può usare un altro, è un tipo di uso esclusivo, al contrario un'idea più la metto in condivisione attraverso la rete piuttosto che attraverso dei canali e più quell'idea diventa produttiva, quindi abbiamo anche una modalità che è quella delle merci immateriali che è quella che tende sempre più a sfuggire alla proprietà o comunque alla privatizzazione dei saperi, delle conoscenze, degli affetti. Questo ovviamente produce anche delle contraddizioni molto grosse all'interno del capitalismo contemporaneo in cui questo capitalismo ha bisogno della cooperazione sociale per succhiarne valore, allo stesso tempo per valorizzarlo deve mettere dei freni attraverso il copyright piuttosto che tutta un'altra serie di forme di limitazione della cooperazione sociale, quindi una crisi strutturale del sistema economico contemporaneo che secondo me viene anche molto alla luce con la crisi attuale che stiamo vivendo in questi momenti, in cui in queste ore rischia di saltare la moneta unica, rischia di aprirsi anche degli scenari in cui tutt'altro che risolta questa crisi, sempre più si prospetta come una crisi strutturale di una forma economica che non riesce più a trovare né con le politiche neoliberali, neoliberiste che tentano la privatizzazione, né con quelle neochinesiane che appunto proclamano il ritorno del pubblico e dello Stato sul controllo e quindi bisogna provare a dare noi delle alternative concrete che sono appunto quelle del provare sempre più a passare dalla mobilitazione dei movimenti come li abbiamo visti in questi mesi all'organizzazione di quelle che potremmo chiamare nuove istituzioni del comune, che sono delle forme di autogoverno in cui il nuovo welfare ha un tratto che parte non più da una gestione né privata né pubblica che oggi sempre più si assomigliano nelle gestioni aziendalistiche ma appunto all'interno di quello che è un tratto comune, di vita in comune, di auto-organizzazione come dire di sempre maggiori pezzetti di nuovo welfare che possano in un qualche modo prefigurare di costruire e organizzare questo comune tutti e tutte insieme. Io volevo dire anche due parole e poi lascio il microfono su una questione per cui oggi bisogna anche mettere in evidenza il fatto che parlare di comunismo, di progetto comunista ha tutta una serie di problematiche rispetto a un termine che va vissuto come un campo di battaglia anche all'interno del quale sempre più provare a togliere le esperienze del socialismo reale che vengono confuse con questo termine e sempre più riprendere quelle che sono le forme di lotta quindi di democrazia dal basso che hanno accompagnato e costruito tutti i movimenti sociali che si sono susseguiti nel tempo. Quindi anche qui la capacità di parlare in maniera eterodossa, di parlare come dire in maniera sicuramente non ortodossa, della crescente possibilità di un progetto comunista oggi nel momento in cui il comune diventa sempre più elemento centrale e si tratta di rovesciare questo comunismo del capitale in una nuova prospettiva di costruzione collettiva in comune della nostra vita collettiva, del decidere in maniera collettiva di tutte quelle che sono delle esperienze possibili di auto-organizzazione e di auto-governo. L'abbiamo visto anche nelle crisi, mi viene in mente l'Argentina del 2001, abbiamo visto lì degli esperimenti di auto-organizzazione veramente molto grossi operai che riprendevano le fabbriche, medici che riprendevano gli ospedali, studenti e insegnanti che riprendevano le università, il tutto per gestirlo, per autogestirlo in modo completamente diverso da quello che oggi fa una qualunque modalità di controllo che sia privata ma che sia allo stesso tempo anche pubblica, che non cambia le modalità di fondo di un'aziendalizzazione per esempio dell'università piuttosto che dell'ospedale, a prescindere da quale sia la mano che lo controlla. Su questo lascio la parola ad Anna Curcio che ha curato questo volume, spero che possa anche aprirsi un dibattito che partendo dalle questioni teoriche che pone Michael possa anche toccare strettamente l'attualità.